Ciao bellezza, come state? Siamo tutte e tutti all'ora Sto anche per il rimbombo della televisione, ma non sono in casa, sono in cogiolo e sto registrando i video di Criccio Spero che i vostri video di Criccio possa piacere Non posso urlare perché sennò mi sentirebbero tutti vicini Aiuto Io attorno a me, che ero di casa, non vorrei sempre una matta Sto registrando in cogiolo Non posso alzare di più la voce perché non è che mi vergogna ma C'è un quasi perché non sono più abituata a registrare fuori dall'esterno cioè fuori dalla mia camera quindi ho un po' di vergogna Ho perso l'abitudine, come voi avrete ben capito E niente, quindi che dire Oggi sono stata l'esitista Ho fatto i baffetti Ho fatto la ceretta corpo La ceretta totale E niente Quindi Ho fatto questa Nulla Solo per dire che Praticamente Oggi sono stata quasi Bevano tutta la mattina del peggnale Un po' per come la doccia La routine Skincare routine Hair Bodycare Cioè corpo e capelli Infatti ho questo signo Così non so cosa si possa vedere E niente E quindi ho fatto questa Signale Oddio No Si sta facendo questa faccia perché Si sente La musica non varia che Youtube Facesse copyright Una volta Quindi Allora Già vedete che io le sono Pratico Ma tra poco sta diventando buio Sono alle 19.45 Non so se si capisce Si si vede Yes E quindi Praticamente Niente E Mi stavo dicendo Per l'appunto Ho fatto la ceretta Dalla setista Non faccio niente Nulla Però Io dico solo Posso niente fare setista Ovvio E E Non male E Poi Oltre a famiglia Ho usato sempre sui prodotti Per il corpo Per il corpo E Per il corpo Il solito Il bagno schiuma E Il bagno schiuma Della Vedete 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 qua Vedete qua Vedete qua Con l'iphone 7 Sempre il mio vecchio iphone E Quindi Nulla Tanto Per dirvi che Ehm Qualcosa rivista Vabbè Non me ne può fare da meno Però è la verità E E niente Che dirvi Ho fatto La seretta A mezzogiorno E Allora Qualcosa Mi sono andata a casa Mi sono ritornata a casa Anzi Posso meglio dire E Mi ho guardato un po' di fiction Fiction si fa a partire Perché mi ho guardato Beautiful La solita serie O fiction Quella prima che amare Non saprei Poi La sera Non so cosa guardare Perché C'è poco nulla da guardare A meno che non ti guardi i programmi Di toccio Ma La più come possibile Ehm Perché Vabbè A parte il tono bianco Tutte quelle cose lì Sperando Ripeto Che non si faccia Un Coferite Tutto Quello che state sentendo Vabbè Non ho comente Comunque La prossima vita Non sentirete a tele Perché la spengo Perché altrimenti Così non si Non si riesce Non si riesce A registrare E niente Quindi Cosa sta dicendo? Non mi ricordo più nulla Ma vabbè Dettagli Comunque La mattinata è stata bella Ma Questa è un po' Piena di tortura Perché se andava Tale cittista A farsi Una tortura cinese E quindi Non lo so perché Ma La ceretta Io Odio La ceretta Questa è stata fatta altrimenti i peli E non Vabbè 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 Qua Sì E Sì Sì E Niente e niente ragazze, io tra poco vi lascio perché non voglio far trovare troppo questo video ma non voglio neanche che vi annoiate, poi il punto è che tra poco si fa buio, non so cosa altro posso dirvi, però vi posso dire una buon prossimamente di serata, statemi bene, e niente, io mi ricordo perché ho detto non so quante volte la stessa cosa in certi tipi di video, adesso non so quale sia la volta che ho detto, però penso che guarda che ho capito, io adesso sono un po' rinca in questo pomeriggio perché ho dormito un po', non molto, un ciccinino, ho dormito sul divano guardando i vostri video, non è che siete noiosi, che lo sono io che non lo faccio apposta, ma mi viene di dormire, pazienza, forse infatti avete fatto smr, non lo so, e niente, quindi io che dire, ci lasciamo perché vado a guardarmi un po' di te ne ho posto i vostri video, e poi non lo so, ci si verrà, appunto, alla prossima, alla prossima, come ti ho posto i vostri video, quindi, che la scrolla più della tele, a meno che adesso non si mette a cucinare, ma non lo so, comunque niente, sono già 8 minuti di video che registro, tra un po' diventa buio, e io devo chiudere il video, ciao ragazze, a presto, ah, ovviamente è fatto di mettere un bel like se vi piace questo video, e perché no, non ci si becca, alla prossima, ah, attivate la campanella, e non so che faccio i gesti da scena, ma non mi importa la mazza, e commentate, iscrivete, ciao